oggi prepariamo una crostata di ricotta gli ingredienti 300 g di farina 100 g di zucchero 100 g di burro 2 uova un cucchiaino di lievito e la buccia grattugiata di un limone contrattato mentre per il ripieno abbiamo 500 g di ricotta 50 g di zucchero 20 g di gocce di cioccolato e 2 cucchiai di liquore quindi come prima cosa andiamo a preparare una frolla friabile mettiamo il burro nella ciotola, aggiungiamo lo zucchero e iniziamo a lavorare mettiamo un uovo alla volta, aggiungiamo il limone grattugiato iniziamo a mettere la farina aggiungiamo anche il lievito bene, a questo punto possiamo lavorare anche con le mani una volta fatta la nostra frolla la mettiamo nella pellicola e la lasciamo riposare in frigo per mezz'ora nel frattempo che aspettiamo la frolla che si riposa possiamo preparare la crema di ricotta aggiungiamo lo zucchero, un cuorlo, due cucchiai di liquore a piacere, io in questo caso ho preferito il rum un po' di gocce di cioccolato, un po' le lasciamo per sopra la crostata la crema è pronta nel frattempo imburriamo una torchiera riprendiamo la nostra frolla, lasciamo un po' per sopra e questo lo andiamo a stendere un po' di farina che non farà attaccare e lo andiamo a mettere nella nostra torchiera con una forchetta facciamo dei buchini a questo punto mettiamo la crema di ricotta mettiamo la striccia la nostra crostata è pronta, la inforniamo a 160 gradi per 30 minuti la nostra crostata di ricotta è pronta per essere gustata la nostra crostata è pronta che non fanno Grazie.